Ben ritrovati con il telegiornale di Arezzo TV. Sono stati individuati e denunciati i tifosi responsabili di quanto accaduto nell'ottobre scorso dopo il cosiddetto derby del Valdarno. Il servizio. Sono quattro i tifosi che hanno ricevuto il DASPO per quanto accaduto ad ottobre 2023 in occasione del derby del Valdarno tra Montevarchi e San Giovannese allo stadio Brilliperi. I bagni dello stadio vennero devastati e due agenti finirono al pronto soccorso. Le indagini della Polizia di Stato hanno portato ad identificare quattro persone, tre delle quali appartenenti alla frangia Ultras della San Giovannese, una a quella del Montevarchi. Sono state denunciate per getto pericoloso di cose, accensione ed esplosioni pericolose in occasione di eventi sportivi, travisamento senza giustificato motivo e resistenza a pubblico ufficiale. In parallelo, il questore di Arezzo ha firmato quattro DASPO che gli operatori del commissariato di Montevarchi hanno poi notificato. Per tre dei tifosi il DASPO avrà la durata di un anno, mentre per il quarto recidivo durerà cinque anni e per lui anche l'obbligo di firma presso l'ufficio di Polizia competente. Ci sentiamo abbandonati e sempre più penalizzati, a dirlo sono i commercianti di via Marco Perennio ad Arezzo che hanno diffuso una nota nella quale si dicono appunto danneggiati da anni di promesse non mantenute. Nell'ormai lontano 1998, con l'inaugurazione, scrivono del nuovo centro commerciale Sette Ponti, era stata eliminata la svolta verso sinistra per chi, giungendo da Viale a Mendola, arriva al semaforo di via Fiorentina. Allora la promessa che venne fatta prevedeva che nel breve termine sarebbe stata realizzata una rotonda. Sono passati più di 25 anni dicono i commercianti e sono stati realizzati molti interventi simili. L'ultimo a ridosso del cavalcavia della tangenziale, proprio quest'ultimo, sa di beffa perché invita appunto le auto a dirigersi verso il centro. Decisione che marginalizza sempre di più via Marco Perennio e rappresenta un'ulteriore causa di perdita di clienti proprio per questa strada della città. Adesso invece siamo alla cronaca sindacale. Il contratto nazionale del settore ristorazione è scaduto da tre anni e adesso due associazioni di categoria diffidano le altre a rinnovarlo. Sono i sindacati, in questo caso Filcams, CGL, Fisascat, CISL e Wiltux ad annunciare una giornata di sciopero. Sarà il 4 di giugno, ossia sterranno appunto dal lavoro i dipendenti delle aziende della ristorazione collettiva aderenti a Danir, Confindustria e Angem. E sulla questione è stato chiesto un incontro anche al prefetto di Arezzo. Apriamo la pagina della politica. Ultima settimana di campagna elettorale in vista delle prossime elezioni europee e amministrative che si terranno l'8 e il 9 di giugno. Alcuni big hanno già visitato la nostra città, altri lo faranno nei prossimi giorni. E allora iniziamo da Roberto Vannacci, il generale candidato come indipendente fra le fila della Lega che ha tenuto ad Arezzo il suo primo comizio elettorale. Ma oggi ad Arezzo intanto è una premiere perché il primo comizio che io faccio non ho mai fatti e quindi insomma vedremo come andrà. Porterò quello che dico sempre ovvero i principi che vorrei portare in Europa che sono i principi di patria, di famiglia, di tradizione, di identità, di confini, di sicurezza perché questa Europa non ci piace. La vogliamo cambiare, vogliamo un'Europa più sicura dove una donna possa uscire a qualsiasi ora del giorno e della notte senza il pericolo o il timore di essere aggredita o derubata o molestata. Un'Europa più identitaria perché noi europei abbiamo una nostra identità come italiani, come francesi, come tedeschi e non è cancellando l'identità che si diventa più inclusivi. Anzi, si cancellano popoli, si cancellano idee, si cancellano pensieri, dobbiamo anzi rinforzare la nostra identità perché chi viene da noi viene proprio perché apprezza questa identità, perché apprezza le condizioni di libertà, di democrazia, di libera manifestazione di pensiero che abbiamo in Europa e che sono il frutto dell'identità dei popoli. Primo comizio elettorale per Roberto Vannacci ad Arezzo arriva qua su invito del presidente del Comitato Culturale Il Mondo al Contrario, l'aretino Cristiano Romani che con la sua associazione Cultura Nazionale lo aveva già accolto per presentare i suoi libri. In piazza San Jacopo con Vannacci è anche l'europarlamentare Susanna Ceccardi. Entrambi sono candidati alle prossime elezioni europee tra le fila della Lega, ma Vannacci da indipendente. Incontro tantissimi cittadini, anche che non andavano più a votare da anni, che hanno voglia di votare Lega e credo che un contributo lo abbia dato il generale anche a questa voglia di tornare a votare. Si parla tanto dell'astenzionismo che ha sfiorato il 50% negli altri tornati e quindi portare nuove persone a votare dovrebbe essere accolto da tutti come un sintomo democratico. E quindi io sono assolutamente convinta che la Lega andrà benissimo in queste elezioni europee, sarà la vera sorpresa di queste europee. Io sono un candidato indipendente, è normale che all'interno di un partito ci sia una dialettica, una dialettica anche critica, non me ne sono mai occupato in prima persona e poi alla fine saranno i cittadini a decidere. Quindi ritengo che sia una discussione assolutamente comprensibile all'interno di un partito, i principi che io porto avanti sono sicuramente coincidenti con quelli, almeno con alcuni di quelli che porto avanti il partito e non mi sarei mai presentato all'interno di un partito che non condivide quello che io invece esprimo da quando ho cominciato a occuparmi anche da lontano di questo mondo. E così il generale nel suo primo comizio pubblico in una piazza non certo presa d'assalto, sfida, pioggia e Kodakons. Ma il Kodakons dovrebbe studiare meglio l'aspetto legislativo, ha già risposto il mio avvocato e ha già detto che queste sono assolutamente preoccupazioni infondate. Incontro elettorale ad Arezzo anche per Dario Nardella, l'incontro è stato ospitato dalle sale del Circo L'Artistico di Arezzo. Firenze e l'Europa hanno un filo rosso che li lega da tanto tempo, non a caso a Firenze c'è l'archivio dell'Unione Europea. Sì, a Villa Salviati abbiamo l'archivio con tutti i documenti fin dalla nascita delle prime istituzioni dell'Europa. E anche attraverso questa mia esperienza, che ho capito quanto sia importante impegnarsi per l'Europa, la passione e l'esperienza che ho utilizzato per governare Firenze, vorrei mettere a disposizione di un territorio più vasto, non solo qui ad Arezzo ma per tutta la Toscana. perché credo che l'Europa oggi sia più fondamentale che mai, molti finanziamenti ormai sono vitali per le infrastrutture, per i servizi, anche per la salute e la sanità, per l'ambiente e senza l'Europa non andremo da nessuna parte. Ovviamente dobbiamo rafforzarla sulla politica estera, sulla politica economica, sui temi del lavoro, dell'ambiente, ma per questo è necessario far vincere tutte quelle forze europeiste come il nostro Partito Democratico, per avere anche un'Europa più vicina ai territori e ai cittadini. Anche perché c'è chi la considera matrigna. Ah sì, c'è chi la vuole proprio sfasciare, quindi dalla constatazione di un'Europa matrigna ad un'Europa da distruggere, però non ho mai capito perché uno si candida per l'Europa dicendo che però non la vuole. E' come se uno si candidasse a fare il sindaco di Arezzo dicendo ma io Arezzo non lo voglio. E quindi c'è una contraddizione di fondo. Io invece credo che ci si debba candidare per rafforzare questa Europa, perché l'Europa di oggi può e deve migliorare. Abbiamo un conflitto terribile alle porte di casa nostra, in Medio Oriente, anche in Ucraina, e però l'Europa non ha una politica estera, che è necessaria per che cosa? Per avere la pace e grazie alla pace per avere un'economia della pace che interessa al turismo, all'artigianato, al commercio. Pensiamo a questa bella città come Arezzo che vive di rapporti globali e internazionali. Se non abbiamo un'Europa più forte saranno gli Stati Uniti e la Cina a decidere del nostro destino e questo noi non possiamo consentirlo. L'Europa ha fatto molto durante il Covid, però non può essere solo un fatto che si muove nell'emergenza. Giusto, l'Europa non deve fare l'Europa solo quando le cose sono sull'orlo del baratro. È stata fondamentale per le vaccinazioni, fondamentale per il PNRR, con il piano di rilancio di 200 miliardi di euro per l'Italia, ma queste misure devono essere strutturali. Quindi un debito comune europeo che costerebbe molto meno agli italiani, che invece pagano molto di più il proprio debito nazionale, un debito comune europeo che serve ad avere le risorse per finanziare politiche industriali, politiche per il lavoro, e quindi un'Europa che non cresce solo durante l'emergenza, ma che la prossima legislatura deve affrontare una fase costituente, con la Costituzione europea, con la riforma delle istituzioni, affinché siano più vicine ai territori e ai cittadini. Adesso invece parliamo di sanità, o meglio, di uno sportello dedicato proprio al malato, quello voluto dalla Federazione Anziani e Pensionati delle ACLI, attivato in collaborazione con il Tribunale del Malato di Arezzo, finalizzato proprio a fornire appunto supporto ai cittadini, nel rispetto soprattutto delle liste di attesa. Uno sportello dunque che aiuterà i cittadini ad ottenere proprio nei tempi previsti la visita, secondo ovviamente il codice di priorità indicato dal medico curante, altrimenti il cittadino potrà, grazie anche a questo sportello, richiedere una visita intramenia in libera professione, con gli stessi costi previsti dal Servizio Sanitario Nazionale. Sempre in tema di sanità, in questo caso invece una buona notizia, che arriva dal Valdarno, un'attac di nuova generazione per il pronto soccorso dell'ospedale Santa Maria alla Gruccia di Montevarchi. La nuova strumentazione, finanziata con fondi PNRR, è entrata in funzione da alcune settimane al termine dei lavori di ristrutturazione proprio necessari ad ospitare la strumentazione. La nuova attac è identica a quelle installate all'ospedale San Donato di Arezzo, delle quali vi abbiamo parlato nei giorni scorsi, e presenta caratteristiche che garantiranno performance avanzate a fronte di un tempo di esposizione per chi si dovrà, insomma, sottoporre a questo esame ridotto rispetto a quello precedente. E siamo alla pagina invece degli spettacoli e degli eventi. è sicuramente da visitare lo stand del Festival Naturalmente Pianoforte all'interno della Fiera Antiquaria di Arezzo che si tiene in questo fine settimana. Frida Bollani e Paolo Iannacci, avremo altri grandi artisti come Finardi, come Tosca, come altri che ancora dovranno essere annunciati. È un concerto molto speciale quello che aprirà il Festival Naturalmente Pianoforte che quest'anno toccherà tutti i comuni del Casentino. Paolo Iannacci e Frida Bollani e Magoni il 17 luglio a Bibiena daranno il via all'edizione 2024. Tantissime situazioni particolari intorno al Festival. Non ci limitiamo soltanto alla musica, ma avremo l'arte, avremo la fotografia, avremo come tutti gli anni le masterclass che porteranno in Casentino una cinquantina di giovani pianisti che vengono ad imparare con dei professionisti. Cose particolari tipo la carovana che sarà una carovana di 20 persone che insieme a degli artisti, musicisti, pittori, attori, camminerà dal giovedì alla domenica per le vallate del Casentino e principalmente nei luoghi degli ecidi nazisti a ricorrenza di questa cosa. Avremo poi un'altra bellissima situazione che è chiamata dal tramonto all'alba. Quindi dal giovedì alla domenica non smetteremo mai di suonare. Quindi la sera dalle 8, la mattina alle 8 avremo comunque delle performance in vari posti del paese. Intanto il Festival che anima il Casentino in questo fine settimana partecipa anche alla Fiera Antiquaria portando in via bicchieraia alcuni dei pianoforti decorati dagli artisti che hanno partecipato al Festival. Un Festival bellissimo, un progetto veramente più che un Festival perché naturalmente è uno degli eventi unici a mio avviso in Italia quindi per noi è un onore ospitarli, portare un po' d'acqua alla promozione loro è sicuramente una cosa molto positiva per entrambi. C'è anche il coloratissimo pianoforte realizzato dagli studenti del liceo artistico Piero della Francesca di Arezzo mentre sono gli studenti del liceo musicale di Arezzo ad aglietare gli avventuri della Fiera Antiquaria. Il liceo musicale di Arezzo è particolarmente importante perché è stata la prima esperienza di un liceo musicale al di fuori di un conservatorio quindi indipendente rispetto al conservatorio e che ha portato avanti appunto lo studio sia delle materie dell'area comune quindi con l'imprimato del liceo classico quindi con una garanzia di una cultura solida e portando avanti anche l'aspetto strumentale e anche della cultura musicale in generale con le varie attività, musica da camera, storia della musica, canto corale che completano la preparazione dei musicisti. Qui abbiamo anche una studentessa domande facilissime, tranquilla, non è un'interrogazione. Il tuo nome? Sofia De Mollo. Perché la scelta di un liceo musicale? Allora perché io già alle medie suonavo il pianoforte e mi è sempre piaciuto sia suonare che cantare e infatti anche canto io a scuola. Sogno qual è? Beh io onestamente avrei sempre voluto fare la cantante cioè è stato proprio da piccolina sempre però ovviamente c'è anche... ci devo arrivare. E domani domenica 2 giugno torna anche l'appuntamento con l'entrata gratuita in linea con le quattro sedi di Galleria d'Italia Polo Museale d'Intesa San Paolo per Arezzo alla Casa Museo Ivan Bruschi occasione dunque per fruire liberamente delle visite guidate che si svolgeranno ogni ora alla collezione del noto antiquario e poi sarà possibile anche visitare il percorso con le opere di Pontormo, Allori, Bugiardini e Macchiaioli oltre ad ammirare la mostra la libera maniera arte astratta e informale nelle collezioni di Intesa San Paolo. Ci spostiamo adesso invece al Parco Pertini dove ieri sera a tardanotte è terminata la festa per il primo compleanno del punto Menchetti una vera e propria scommessa anche da un punto di vista sociale. Vediamo. Compie un anno il progetto decisamente ambizioso di Menchetti quello di riqualificare sia dal punto di vista urbano che da quello sociale un luogo particolarmente caro agli aretini il Parco Pertini. Oggi in questo polmone verde c'è un punto non solo di ristoro ma anche di riscoperta di quella socialità che tanto è mancata. Io credo la presenza l'hanno presa bene se no non saremo qui a parlare di potenziale perché abbiamo visto che ancora c'è margini importanti di crescita è chiaro è stata una cosa importante importante per noi come investimento ma penso lo sia importante anche per la città insomma il report e il risponso che abbiamo da tante persone sono più che positivi bisogna migliorare ancora diverse cose perché a nostro avviso soprattutto per noi che vediamo spesso e seguiamo molti locali ancora dobbiamo migliorare alcune fasi della giornata che a mio avviso siamo ancora un po' come si dice non tanto sottostima quanto non siamo ancora percepiti per quello che facciamo sicché bisogna darla questa dimensione e far capire che cosa veramente facciamo tutto il giorno. Qui avete fatto impresa sicuramente ma avete fatto anche un qualcosa di sociale Sì, è chiaro la funzione di questo punto di questa attività non era solo diciamo una funzione di come si dice beneficio gastronomico e il resto ma era anche un beneficio per vivere di più la città soprattutto viverla in un parco che credetemi se andate fuori soprattutto nelle città più importanti che Milano è la più internazionale cioè in un parco così è facile trovarti tre, quattro, cinque attività perché anche d'inverno sono molto frequentati perché la gente chiaramente vuole stare in mezzo al verde camminare passeggiare comunque sia uscire dalla routine quotidiana e questo chiaramente è più comprensibile che nelle grandi città queste cose si sono ancora più apprezzate però vediamo che piano piano siamo convinti che possa essere anche per questo posto ed infine siamo allo sport parliamo di basket è stato annunciato proprio nelle scorse ore il nome del nuovo allenatore della SBA sarà appunto Alessio Fioravanti a guidare la panchina appunto a Maranto la sua presentazione ufficiale avverrà nella prossima settimana intanto è proprio la SBA ad annunciare ancora l'impegno per i campi estivi in vista ovviamente dell'estate che sta arrivando sette settimane di attività motorie e sportive con i centri estivi della scuola basket Arezzo gli sport camp così si chiamano che inizieranno da lunedì 10 giugno fino a venerdì 26 luglio saranno rivolti a bambini e bambine nati a partire dal 2018 che anche non hanno comunque frequentato la pallacanestro potete comunque rivolgervi insomma agli sportelli della società al palaestra Mario D'Agata di Arezzo proprio per avere tutte le informazioni per quanto mi riguarda è davvero tutto grazie per l'attenzione arrivederci per l'attenzione per l'attenzione Grazie a tutti.